Grazie mille Presidente Mezzola, grazie Commissario Dombrovski e la Presidenza portoghese. Il prossimo G7 è, secondo me, un'occasione fondamentale per l'Unione Europea, un'occasione di ascolto, un'occasione di apprendimento, un'occasione di analisi di alcuni errori strategici che purtroppo l'Unione ha commesso su dei temi molto importanti e che sarà bene correggere in futuro. Il primo tema è il nostro rapporto con il Regno Unito e con un Paese che, nonostante quello che è successo, deve essere ancora un Paese da cui abbiamo molto da imparare. Il Regno Unito che ospiterà questo consesso è un Paese che uscirà più forte e più sano dell'Unione Europea da questa pandemia. L'economia correrà di più, la campagna vaccinale, al contrario di quello che è accaduto qua, è stato un successo e credo che questa sia un'ottima occasione per sotterrare l'ascia di guerra con il Regno Unito, per accettare quella che è stata una scelta dei cittadini britannici e per rinnovare una nuova cooperazione con un Paese che per noi è strategico e importantissimo. C'è il tema del nostro rapporto con gli Stati Uniti e anche qui abbiamo molto da imparare da questa amministrazione e soprattutto i cosiddetti progressisti hanno molto da imparare e vorrei sapere cosa hanno da dire sulle frasi riguardo all'origine del virus cinese su cui ancora si interroga questa amministrazione americana o le frasi della vicepresidente Harris riguardo ai migranti. Gli Stati Uniti ancora una volta ci danno una lezione che qualunque sia l'amministrazione che è in carica l'interesse nazionale viene prima di tutti. E poi infine il tema delle tasse, un tema importantissimo, è stato fatto un passo avanti ma ancora non è abbastanza e l'Europa che è casa di paradisi fiscali e che ha avuto il capo di questo sistema come Presidente della Commissione ha ancora molto da fare in questo spazio. Se riusciremo a comprendere questi errori, se riusciremo a prendere questi Paesi ad esempio per correggere questi errori, allora questo meeting davvero potrà essere utile all'Unione Europea. Grazie mille. Grazie signor Zanni.